Brindate adesso che poi non brinderete mai più ragazzi, non brinderete mai più perché uno di voi, uno di voi qua dentro, cosa fa ragazzi uno di voi, ditelo assieme, cosa fa uno di voi? Si sposa! E chi sarà mai, chi sarà mai, facciamo una rapida carellata, vediamo Mr. Dale, questo alla faccia, questo no, questo no, questo guarda Dale, questo, questi chiami? Alessandro, Alessandro no, Marco no, Andrea no, Fabio no, Luca no, Leo, sì, è Leo, è Leo un'altra sposa, Ho spruzzato dappertutto, ragazzi quando arrivo spruzzo, sono il conte Iacula io, sono il conte Iacula quando arrivo spruzzo, ma chi non Iacula mai più praticamente, è lui! Si, sono io, mi sta rovinando, ti stai rovinando, guarda subito la faccia così, mi tocca, e chi ti tocca? Alessia, Alessia lo tocca ragazzi, una cosa incredibile, Alessia lo tocca, e ti ha toccato fino in fondo? Si eh, vedi anche il camera si è andato disgustato, guarda gli amici, guarda che faccia, proprio, proprio, veri amici eh, Si, si, ok, ma dici un po', perché ti sposi proprio stasera? Stasera non mi sposi, ma non sei vestito la vacca, ah ma non è il vestito, ah ma non è il matrimonio ragazzi, ho sbagliato, ho sbagliato Ah, pensavo che fosse già in perfetto stile matrimoniale, è una cosa pazzesca, e invece niente, così, stai lì nella tua, hai proprio deciso di metterti nel castello Si, ma ormai è già andato proprio, il paletto lì, e manca solo quello E poi fine, ma vuoi salutarla, dire qualcosa? Ciao Alessia Mi piace la spontaneità pazzesca Esatto, domani la vedi, la vedi, la vedi, la vedo, è in un night qualcosa, là in questo momento No, è a casa con la bambina Ah, perfetto, 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 ok, va bene Manda, mandale un bacio, mandale un bacio Perfetto, mi piace il carico eh ragazzo, dai Abbracciatelo tutti, abbracciatelo tutti, abbracciatelo ragazzi, abbracciatelo Vi fa schifo, lo ammetto, vi fa schifo, va bene Un saluto a Leo, da dove? Leo da dove? Leo da Bergamo Will